Buongiorno da Pierpaolo Flamini, cerchiamo di fare il punto sull'emergenza coronavirus nella regione Marche e sulle parole di Anna Casini, consigliere regionale del Partito Democratico, nonché già vicepresidente della giunta Ceriscioli. Innanzitutto a ieri 5 novembre 2020 abbiamo 477 ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, di cui 57 in terapia semintensiva e 37 in terapia semintensiva. L'elevato numero di ricoverati ha suggerito quindi ad Anna Casini, in un post, di chiedere la chiusura dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per spostare le funzioni ospedaliere tutte al Mazzone di Ascoli e destinare l'ospedale di San Benedetto soltanto alla cura di pazienti Covid, come peraltro già avvenuto lo scorso 15 marzo. Cerchiamo di capire perché questo modo di affrontare la questione ci sembra un po' criticabile. Innanzitutto è una presa di posizione personale, come ha scritto lo stesso Partito Democratico a San Benedetto, non è stata discussa nelle sedi del partito, è stata affidata ad un post social, ma è una questione così grande, così controversa, così difficile per la comunità della Riviera dei Palmi che crediamo che un singolo esponente non dovrebbe rilasciarla con tanta leggerezza, ma dovrebbe approfondirla e confrontarsi appunto almeno con il suo partito prima e farla diventare una posizione eventualmente comune. Secondariamente cerchiamo di capire come la Regione Marche ha deciso di intervenire quando esplosa l'epidemia coronavirus nella Regione. Sono stati due gli interventi fondamentali, uno il Fiera Hospital di Civitanova che può ospitare 84 pazienti, 42 in terapia intensiva, 42 in semi-intensiva e poi un programma per la gestione dell'emergenza approvata appunto dalla Giunta Ceriscioli lo scorso mese di maggio. In questo programma si definivano i luoghi deputati all'accoglienza dei ricoverati nel caso ci fosse la seconda onda ed era appunto il Fiera Hospital di Civitanova, gli ospedali con unità operative di malattie infettive, ovvero Fermo, Ancona Torrette e Pesaro Marche Norte e poi eventualmente gli altri ospedali come sa bene detto Civitanova, Iesi, Senigallia e Camerino. Innanzitutto questa Fiera Hospital ha illuso un po' ai cittadini marchigiani, anche la comunicazione un po' ridondante, ha illuso che nel caso di seconda onda avrebbe ospitato tutti i malati Covid della regione Marche o un gran numero degli stessi. Ma 84 posti letto disponibili su 1.156 ricoverati, che è stato il picco dello scorso mese di marzo, è facile capire da queste dimensioni che il Fiera Hospital può ospitare soltanto una ridotta parte dei malati, anche oggi sono 477, circa 6 volte più di quello che ha ospitato la sola Civitanova. Secondariamente l'impiego di risorse per realizzare il Fiera Hospital, che oggi ospita 14 pazienti, ha un po' distolto l'attenzione, crediamo, dal fatto che gli interventi alle regioni Marche, come avevamo tra l'altro chiesto non solo noi, ma tanti cittadini, gli interventi alle regioni Marche che dovesse essere indirizzati alla separazione dei percorsi Covid e non Covid all'interno dei stessi ospedali, rendendo dei percorsi sicuri negli ospedali. Questo perché? Perché l'epidemia in corso è facile pensare che i malati ci saranno ancora a lungo, ma è facile pensare che non possono essere chiusi continuamente gli ospedali a fisarmonica, a seconda del numero di malati raggiunti. Questa era una critica che avevamo fatto già nei mesi di marzo-aprile. Anna Casini e Ceriscioli a questa nostra critica, come di altri, non hanno mai voluto rispondere. Odaretta sono andati avanti nella loro strada, ma noi abbiamo posto ad Anna Casini altre questioni. La chiusura dell'ospedale ovviamente è una situazione di emergenza che si potrebbe anche fare nel caso in cui veramente non ci sono posti. Ma attenzione, noi chiediamo quanto ha investito la regione Marche nella creazione di percorsi sicuri all'interno degli ospedali marchigiani e in particolar modo in quelli di Ascoli e di San Benedetto, per far sì che potessero continuare ad operare. Quanto ha investito la regione Marche nell'aumento, in questi ultimi mesi almeno, nell'aumento di posti letto ospedaliari in posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Ci sono risposte a queste domande oppure non si hanno dati certi o non ci sono assolutamente alcun tipo di intervento in questo fronte? Sarebbe più chiaro cercare di capire quello che è avvenuto in modo poi anche da prospettare eventuali soluzioni ma anche eventuali responsabilità. Da Pierpaolo Famiglia è tutto.